Siamo un gruppo di 360 persone, noi abbiamo scelto la fiaba Encanto, una fiaba che parla della famiglia Madrigal, una famiglia molto unita, molto felice, molto serena in cui ogni componente ha un talento, un particolare talento, ad esempio c'è Luisa che ha la forza, Isabella che ha la bellezza e tutti hanno questo talento tranne apparentemente Maribel che è la protagonista del nostro cartone. Quindi una fiaba sull'inclusività, l'individualità e anche di non farsi condizionare dal giudizio della gente che ci vuole sempre all'altezza delle aspettative. Grazie